per il vostro maltese sognate un manto lungo liscio e bianco ecco perché vi raccomando assolutamente uno shampoo sbiancante manti bianchi per il bagnetto oppure in alternativa o in associazione lo shampoo manti lunghi proprio per regalare estrema pettinabilità è fondamentale nutrire il manto con prodotti districanti specifici come ad esempio il balsamo districante dopo lo shampoo oppure gli spray da finitura come lo sciogli nodi lucidante proprio per evitare la formazione dei nodi due o tre volte a settimana oppure quotidianamente lo spray di idratazione rimpolpante pink velvet il maltese così come tante altre razze è soggetto alla formazione di macchie rossastre nella zona oculare ecco perché vi raccomando di utilizzare anche quotidianamente la lozione di pulizia con tornocchi per un lavaggio frequente senza l'utilizzo di acqua vi consiglio lo shampoo a secco come morbida schiuma di pulizia da utilizzare spesso e costantemente fiss